Ciao e benvenuti a questo video, in questo video vedremo di capire come fare a utilizzare i React Hook, in particolare useremo UserReduce e ReuseContext per gestire lo stato globale di un'applicazione. Se non ci sei ancora iscritto al canale fallo subito, c'è il bottone iscriviti e la campanella per essere sempre aggiornato sulle ultime novità. Andiamo a vedere un pochino, qua sulla mia pagina personale di GitHub trovi lo starter project di CoreAct e Parcel, che è quello che utilizzeremo oggi, quindi clicchiamoci, scegliamo UseThisTemplate per poterlo utilizzare nel nostro progetto. Ti proporrà di creare un repository, noi lo creiamo, facciamo React, GlobalState, Demo, non so, vediamo un po' se c'è. Public, ok, e CreateRepository for a Template. Adesso lui ci crea il repository e poi ci serve un attimo di pazienza e poi possiamo andare. Ok, questo ha creato l'impostazione generale che ho fatto in uno dei passati video che puoi trovare sul canale. Qua lo apriamo in GitHub Desktop solo per comodità, in realtà poter fare anche una clone in una cartella, però vabbè, apriamo in GitHub Desktop, mi chiede dove copiarlo, questo va bene se puoi cambiare i valori del path locale. Faccio la clone. Adesso, una volta che l'ha clonato, lo posso aprire in Visual Studio Code. Io uso la versione Insider, ma puoi usare tranquillamente in quella normale. Ripeto, si può fare anche clonando direttamente i repository, niente di particolare. Allora, adesso, dunque, apriamo un terminale e facciamo partire la nostra applicazione. Quindi npm run dev. Con questo comando, usando Parcel, lui ci avvia il sito e poi scarica anche i pacchetti che servono per avviare il tutto. Vede che sta installando il preset React di Babel e un paio di altri pacchetti che poi dovrà installare sicuramente. Babel stesso, infatti. Ok. Adesso installare React e dopodiché dovremo avere tutto a posto. Facciamo un po' di pacchetti. Ok. Perfetto. Ho fatto la build e adesso a localhost1234 troviamo il nostro sito che per adesso è questo. Allora, cosa ci servirà? Dunque, nel nostro index, qua, dove abbiamo creato il nostro componente app, e qua c'è questo console.log che abbiamo lasciato di test e non ci serve, noi dobbiamo creare come prima cosa un context. Quindi facciamo const, non so, lo chiamiamo app.context, uguale a react.create.context e gli passiamo, i valori default sono un null. All'inizio va bene così. Ok, intanto Parcel si preoccupa di continuare a fare la build del nostro sito. Ok. Adesso qua io devo dare, fare in modo tale da poter passare ai sottocomponenti, diciamo, della mia applicazione, il contesto e poi vedremo come fare a gestire i dati all'interno di questo contesto. Allora, qua posso. Mettiamo una, facciamo un div esterno che contiene tutta l'applicazione. Facciamo div. Class name. App. Ok. Questo adesso lo... Ok, inseriamo qua. Ricordati sempre che posso avere soltanto una root nei componenti funzionali di react, quindi è importante che ci sia un componente che contiene tutto, se non si lamenta e non funziona. Adesso facciamo a context. Context.provider e devo passare un value. Per adesso passiamo un valore vuoto. Tutto quello che sta qua dentro riceverà questo valore che noi gli stiamo passando. Adesso proviamo a fare una prova, giusto per vedere come funziona il meccanismo. Creo una variabile, test uguale a 2, e passo test. Qua posso passare un oggetto, potrei passare direttamente test, per vedere le due versioni. Adesso qua dentro dovremo mettere un nostro componente, lo chiamiamo ad esempio, non so, demo. Componente che non c'è ancora e lo creiamo. Quindi qua faccio function, demo. e per poter utilizzare il valore passato attraverso il context.provider devo utilizzare un hook di react che è useContext. Quindi faccio const context uguale a useContext. Vedete che in automatico lo importa sopra, non è una magia. E gli passo il contesto su cui lavorare. Adesso io qua posso dire, stampiamolo, non so, al punto log, context, così vediamo cosa gli era arrivato. E poi facciamo un return, facciamo un div, che contiene hello e basta. Se adesso andiamo a ricaricare la nostra pagina, vediamo il giro che fa. Allora, vede che c'è hello, vedete quasi. C'è hello. E qual è la soluzione? Perché? Qui effettivamente è stato caricato il componente. Adesso vediamo nel console sviluppatori se c'è anche il mio valore. User message 2, che è esattamente il valore che ho passato all'interno del... qua dentro. Il valore di test, il contenuto di test. Ok. Questo è interessante relativamente, nel senso, però, già ci fa vedere come possiamo passare un valore a un componente o a più componenti eventualmente contenuti senza bisogno di andare a farlo esplicitamente, quindi mettendo qua test uguale a 2. Ok. Questo è interessante. Io posso passare anche un oggetto, sì, qua metto le graffe. Questa scrittura, questa, è come dire un oggetto che ha un attributo test che vale test, che vale il valore di test. Proviamo a vedere se questo funziona o se esplode. Vedete? Crea, passa un oggetto che ha una chiave test che vale 2. Allora, quindi abbiamo passato un oggetto. Adesso vediamo come fare a, sfruttando questa potenzialità del contesto, come facciamo a passare uno stato globale all'applicazione. Prima di tutto dobbiamo chiederci come sarà gestibile uno stato globale. Abbiamo visto in un altro video lo hook U-State. U-State in realtà è abbastanza limitato, nel senso che mi costringe a lavorare direttamente sullo stato. Non è ottimale come cosa. È molto più potente, e molto più generale come approccio ovviamente, l'utilizzo di un altro hook, che è lo user reducer. Come funziona lo user reducer? Allora, lui ritorna state e dispatch. E dispatch, 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 bobbè, dispaccio. Use reducer. Use reducer. Use reducer può una funzione che fa da reducer, lo chiamiamo l'app reducer, ma senza vincoli, ovviamente. E poi eventuali valori iniziali, diciamo. Va bene. Queste sono un oggetto vuoto all'inizio. E chiaramente qua l'app reducer non esiste come funzione. La scriviamo subito. Function. App reducer. L'app reducer, ogni funzione che viene passata allo user reducer, deve essere fatta in un modo particolare. Ha come primo parametro lo stato dell'applicazione, lo stato su cui lavora, quello che poi mi ritornerà qua dove c'è state. E poi ha un action. Un action è un oggetto generico. Adesso vediamo in cosa si realizza tutto questo. Il funzionamento banale di uno user reducer è questo. Detour state. Deve ritornare per forza allo stato aggiornato. Questo è uno user reducer che non fa assolutamente nulla. Prende lo stato, se ne infischia della action, e mi ritorna lo stato. Tutto bene. Allora, quello che devo fare adesso è di andare a passare al mio componente demo lo stato condiviso. Non è modificabile. Quando viene questo non è mutabile. E poi la dispatch che invece servirà per costruire i comandi, adesso vediamo come, che alterano lo stato. Come faccio a passarlo? Beh, test posso toglierlo. A questo punto passo qua dentro state e dispatch. Sto passando questi due oggetti, sono una variabile e una funzione, all'interno del componente demo, che potrà stamparlo qua dentro al context. Quindi il context adesso contiene state e dispatch. Proviamo ad andare a vedere. Vedete? Allora, state è un oggetto vuoto, per adesso, e dispatch è una funzione f. Come è fatta questa funzione di dispatch? O come la chiamo meglio? La funzione di dispatch ha questa struttura, e su qua la scrivo, ma dopo devo cancellarla, e non è il posto giusto per richiamarla. E dispatch, dentro, ci passo la action, che sarà un oggetto che è quello che viene passato qua. Una classica struttura della action è questa. Avrò un attributo type che indicherà il tipo di comando, e poi avrò un payload che contiene eventuali parametri. Questo è un modo per passare in un colpo solo più informazioni. Teniamocela commentata questa, così l'abbiamo lì, e la possiamo risfruttare dopo questa idea. Ok. Adesso noi possiamo pensare, ad esempio, qua, di mettere, non so, trasformare la nostra applicazione in qualcosa di dove abbia senso passare lo stato. Ok. Immaginiamo di avere un'applicazione dove noi abbiamo uno stato globale, che è il valore di alcuni LED, poi andiamo a creare dei bottoni che ci fanno cambiare il valore di questi LED. Quindi avremo un bottone, che sarà uno switch, ok, e un display, e un LED, che rappresenterà il LED spento o acceso. quindi ho due componenti. Il demo lo usiamo come partenza, diciamo. Allora avrò un LED, e poi LED, e poi lo switch. questi recuperano entrambi il contesto, il contesto che sappiamo già che è fatto da state dispatch, perché è quello che viene passato qua sotto. Quindi facciamo una cosa lesta. Questo lo copiamo, e lo incolliamo qua. Al posto di context, recuperiamo direttamente state dispatch. Il nostro LED sarà rappresentato da un, non so, possiamo fare un div, che ha dentro una O grande, e basta. E poi abbiamo class name, ma possiamo fare, allora, no, facciamo così, diciamo che se, adesso dovremmo recuperare il valore, qua vorrei mettere O oppure X, in base al fatto che sia spento oppure acceso, quindi per adesso è spento. Lo switch per noi è un bottone, è un button, che ha toggle. Adesso abbiamo un po' di questioni da risolvere, cioè, possiamo rappresentare adesso un LED, uno switch, possiamo scriverli, certo. Mettiamo un LED, e poi mettiamo uno switch. Se andiamo a vedere il nostro, la nostra pagina, c'è il LED che è spento, e il toggle. Ovviamente se io clicco sul toggle, non succede assolutamente nulla. E questo va bene. Va bene perché non abbiamo alcun tipo di interazione per adesso. Ok. Allora, quello che possiamo fare, è questo adesso. Possiamo dire, quando viene premuto il bottone, devi attivare quel LED particolare. ok, allora dobbiamo inizializzare la, l'applicazione nel modo corretto adesso. Ad esempio, succederà che lo switch deve sapere qual è il LED su cui fa, a cui fa riferimento. E allo stesso modo, il LED deve sapere qual è un suo identificativo. Ok? Questo è abbastanza importante. Altrimenti non sanno a quale valore dello stato andare a fare riferimento. possiamo lavorarci tranquillamente. Cioè, l'idea è questa. Io potrei dire, creare qua, nello stato iniziale, i nostri LED. Quindi facciamo LEDs. e questi saranno così. Facciamo così. Tutti zero. No, facciamo i zero, dai, zero, 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 zero. Questi sono quattro LED. Ok. Se sono quattro LED spenti, adesso lo stato è che i LED all'inizio sono spenti. Questi oggetti vanno rappresentati. Quindi va scritto il codice che li rappresenta. Possiamo farlo tranquillamente. Iniziamo a stampare a video state.leds. Prima cosa. Ok. Quattro elementi tutti e zero. Li abbiamo qua. Perfetto. Adesso cosa facciamo? Diciamo const LEDs.jsx uguale a state.leds .map.led ogni LED singolo viene mappato in un componente LED gli si passa un key questo serve per per LED e pause questo serve per il fatto che c'è una lista di oggetti quindi sarebbe LED uguale key uguale a pause e adesso mettiamo il il LED di riferimento che è se possiamo mettere in realtà due volte nel senso che sappiamo che è spento a potrei mettere status no 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 non mi serve non mi serve perché sto passando tutti e tutto lo stato che ha condiviso quindi mi basta che gli dica qual è il numero bu n uguale mettiamo posa ancora questo dovrebbe farmi stampare per ogni elemento l'elenco qua io posso andare a mettere 4 così metto LED 6 e dovremmo avere che esattamente c'è 4 LED che sono tutti 0 va bene qua ci siamo quindi abbiamo rappresentato i 4 LED ovviamente dovremmo rappresentare per ogni LED anche il suo il suo bottone cosa possiamo fare possiamo lavorare qua dentro questo ritorna vediamo se si lamenta non si dovrebbe lamentare infatti non si lamenta allora cosa facciamo prendiamo un div e questo div contiene il nostro ok contiene il nostro LED poi oltre al LED mettiamo chiaramente anche lo switch perché ogni LED ha il suo switch anche lui avrà un n che rappresenta la posizione all'interno degli stati se io vado a vedere ho 4 elementi con ognuno con il suo bottone qua mi dice attenzione che ogni elemento in lista deve avere un'unica key ha ragione perché ho sbagliato nel senso che sono andato a inserire la key all'interno di LED ma in realtà devo metterla sull'elemento esterno avendolo aggiunto così mi toglie il warning adesso io qua ho 4 toggle e devo andare a gestire la cosa allora per prima cosa li facciamo stampare in console per gli switch a quale LED fanno un riferimento quindi vado qua sopra qui ho a ogni funzione vengono passati attraverso la variabile props tutti i valori gli attributi che gli passo all'interno del tag quindi console.log props se vado a vedere dice n uguale 1 n uguale 2 n uguale 3 n uguale 4 n uguale 3 basta da 0 a 3 ci siamo capiti va bene adesso questo bottone qua mi servirà io dovrei fare adesso nel bottone dovrò dire eseguire il comando quando lo clicco per dire vai a cambiare lo stato dello switch che ti ho passato qua quindi diciamo const n uguale a props.n si potrebbe fare anche facendo destructuring però in questo caso non cambia più più di tanto la vita facciamo così button quando viene fatto il click quindi l'home click cosa esegue esegue una funzione esegue una funzione che è esattamente la dispatch quando potere dovrei fare così dispatch e metterci all'interno type uguale a che ne so toggle e poi come payload uno gli potrebbe mettere n quindi n uguale ad n fa un po' schifo qua siete d'accordo con me che insomma è scritto un sacco io vorrei semplicemente avere una funzione function la chiamo toggle e gli passiamo di quale elemento fare il toggle ovviamente non posso definirla fuori perché se la definisco fuori lei non sa chi è chi è di spaccio se invece la chiamo qua all'interno potrei fare toggle n e all'interno richiamo queste cose per o meglio grazie al ok grazie al alle caratteristiche di javascript ok per il fatto che viene fatta diciamo il contenuto viene catturato ok c'è una chiusura c'è una closure quindi vuol dire che n viene inchiusa per chiusura viene messa dentro dispatch viene recuperata a questo punto vuol dire che noi quando chiamiamo toggle effettivamente lo chiama col valore corretto verifichiamo prima che facciamo verificarlo torniamo al nostro app producer facciamo print eh sì print console.log di action vogliamo vedere quando noi clicchiamo la action corrispondente guardiamo se funziona questo toggle è ok il toggle è toggle e n è uguale a 0 questo terzo toggle è n uguale a 3 quindi sappiamo su quale elemento dobbiamo andare a lavorare perfetto adesso se andiamo qua nella nostra reducer cosa diremo è dobbiamo recuperare l'elemento la nostra prima di tutto verifichiamo diciamo if action punto type ci potrebbero essere i comandi toggle se è questo allora cosa facciamo se ho messo python style se siamo in così se è toggle allora dico nuovo stato per prima cosa let perché questo è modificabile new state well state è una copia di stato questa viene ritornata poi alla fine io qua cosa faccio dico if così if state state e devo trovare anche la posizione ovviamente const pose è uguale a action punto payload punto n perché è il valore che vado a passare quindi dico se state pose quindi se il valore nella posizione che mi serve è uguale è uguale a o allora dirò che new state pose è uguale a x altrimenti va tac tac ok altrimenti non ho alternative new state pose uguale a o ho aggiornato new state praticamente quindi prendo lo stato lo copio new state che è let quindi è modificabile a questo punto vado a sistemare le cose poi ritorno new state vediamo un po' cosa succede error angling boundary qual è il problema ah perché lo chiama in ciclo infinito evidentemente uh che strano no l'errore sta ma che non ho scritto action ma actions vediamo esattamente a posto allora adesso se ne andiamo qua dunque infatti user message questi sono segnalati ok vediamo che non è stato modificato lo stato allora andiamo a vedere qua l'idea è che questo stato ok proviamo a lasciare scritto state a questo punto vediamo per capire cosa succede qua l'unica cosa che possiamo fare è di non sbagliare finestra ovviamente e stampare lo stato per forza console.log state andiamo a vedere ok qual è il problema che abbiamo quello che ci ritorna è una cosa molto strana perché abbiamo dei led ok io ho aggiunto un pezzo vuol dire che non ho considerato la struttura del mio stato infatti non è state pause ma state led leds che ho inizializzato qua sotto o led o leds adesso vediamo un po' non mi ricordo se ho messo il plurale o no qua dove che era qua dentro leds ok è questo che mi manca ci devo andare a dire state state punto leds punto sì quello sì è una lista proviamo a andare quindi è un errore classico questo dove uno va ok 4 array sono 3 0 1 1 in realtà qual è il mio problema è che abbiamo detto prima che noi consideriamo che se lui vale 0 mette 1 altrimenti mette 0 non vogliamo lavorare direttamente con la rappresentazione ma lavoriamo con loro col valore questo perché esatto c'è l'uno fissiamo l'ultimo ok non abbiamo impostato niente qua infatti perché dobbiamo ancora impostare il led andiamo a questo punto nel led quindi adesso noi abbiamo che state punto leds pos vale 0 1 0 si è spento e 1 si è acceso il led diventa banale a sto punto perché qua mi basta scrivere fare const led value è uguale a il io qua devo sapere qual è la mia posizione stesso modo quindi anche il led devo sapere cosa rappresenta quindi qua sotto nella creazione vedete che abbiamo passato la n lo stesso modo quindi la recuperiamo qua dai props props il led value è state punto leds n allora il led value questo è sarà o 0 o 1 ok quindi facciamo if led value è 0 allora let led display uguale a 1 dei due se il led è 0 il led display è uguale a un grande altrimenti led display è uguale 1 questo led display quindi andiamo a rappresentare il valore quindi così abbiamo recuperato il valore del led abbiamo in questa zona impostato il valore da rappresentare ci sono due piani diversi uno è quello dello stato che memorizza i dati come vuole dopodiché i singoli componenti che usano i valori dello stato per rappresentare le cose le rappresenteranno nel modo che ritengono più opportune o più adatto attenzione al rullo di tamburi non l'abbiamo rappresentato andiamo a vedere cosa facciamo possiamo rappresentare lo stato ok vediamo se arriva sul punto log state n e poi basta e basta ok questo leds è nella riga andiamo a vedere dov'è 67 che è qua e ancora nella producer dobbiamo andare a valutare e un po' sono un po' di informazioni sono a posto queste qua dobbiamo chiederci come mai non viene aggiornato il nostro componente quindi non riusciamo a eseguire il comando ma non a leggere il valore del componente dunque dobbiamo rappresentare un attimo la cosa sembra che non venga mai chiamato vediamo un attimo allora l'applicazione non funzionava per una motivazione abbastanza semplice quando io prendo state e lo ripasso e lo ripasso fuori succede una cosa strana react controlla che sia cambiato l'oggetto quindi cosa devo fare se voglio far sì che l'interfaccia venga aggiornata mi basta prendere lo state e lo copio questa è una copiatura veloce vuol dire crea un nuovo oggetto le graffe con tutte le proprietà dell'oggetto state ma è un nuovo oggetto quindi è un nuovo indirizzo in memoria e viene gestito con un nuovo oggetto a questo punto se noi ricarichiamo abbiamo tutto a zero facciamo toggle diventa uno uno così ritorna a zero quindi abbiamo la nostra interfaccia gestibile in modo abbastanza facile questo è un esempio facile se uno vuole poi puoi provare a dare il toggle una forma ragionevole al posto di un bottone mettere un'immagine fare un click sull'immagine ad esempio al posto dell'1 e 0 mettere dei led questo è un esperimento da fare una cosa che ti invito a provare a fare è quella di aggiungere un componente display e sul display rappresentare il valore in base 10 corrispondente ai vari bit considerando questi led come dei bit in una sequenza binaria decidi poi tu dove sta l'inizio dove sta la fine questo è un po' l'esercizio da provare a fare niente con questo è tutto grazie per l'attenzione e al prossimo video ciao grazie per la visione grazie per la visione